Mentre sindacati ed ex dipendenti TR attendono fiduciosi e soprattutto speranzosi le decisioni che i commissari Caruso e Ferreri insieme al giudice Vassallo dovranno prendere sulla richiesta di KF per il subentro a Doti, parte ufficialmente la nuova avventura imprenditoriale di Massimo Calugi. Si tratta di un imprenditore tessile toscano, patron della Missardi, che ha infatti firmato un contratto di affitto con l'imprenditore isernino Gino Calabrese per l'affitto di un capannone nella zona industriale di Miranda. La produzione dovrebbe partire già a settembre, non appena l'immobile sarà adeguato alle esigenze aziendali. Sarà in ogni caso una sede all'avanguardia, che punterà sull'innovazione, essendo lo stabilimento alimentato con energia autoprodotta. La start-up di Missardi, denominata ITR Moda, Innovazione, Tecnologie e Ricerca, dovrebbe partire con l'assunzione di circa 25 o 30 unità, tutte provenienti dall'ex ITR. Poi, se le cose dovessero decollare fin da subito, la nuova azienda potrebbe arrivare entro breve tempo ad impiecare fino a 100 persone. Nella sede di Miranda approderà una produzione uomo e donna, che andrà ad integrare quella che è l'attuale produzione del gruppo imprenditorale Toscano. Positivo il commento dell'assessore Massimiliano Scarabeo, che ha dichiarato, dopo la buona notizia sugli sviluppi del riconoscimento dell'area di crisi per la provincia di Isernia, anche quella dell'insediamento di uno stabilimento della Missardi sul nostro territorio, non può che essere accolta con soddisfazione. L'inizio dell'attività della nuova realtà imprenditoriale della Missardi, previsto per il prossimo autunno, è un ottimo viatico perché, presto, si registri un incremento dei posti di lavoro, considerato che le professionalità non mancano e sono molto qualificate.